ciao a tutti benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere passo per passo come realizzare questo bellissimo motivo all'effetto 3d in quanto guardate che si presenta al rilievo è un punto che potete andare applicare per i diversi progetti anche per le copertine guardate che spettacolo questa è la parte diritta del nostro motivo da parte rovescia invece si presenta in questo modo che anche lui a sua volta molto carino quindi se il motivo vi piace possiamo partire con il nostro tutorial partiamo quindi con la nostra lavorazione dobbiamo andare avviare per il nostro campione 22 mali il nostro motivo è il multiplo di 6 male quindi noi andremo a vedere 3 blocchi 18 mali dedicate al motivo più 2 mali di vivagno e 2 maglie per fare la simmetria del motivo per l'avvio andiamo avviare le maglie con l'avvio alla nordica come sempre il link tutorial diretto all'avvio alla nordica troverete qui sotto nella descrizione o sopra nei video consigliati ecco qui abbiamo avviato le nostre maglie e ora partiamo con la lavorazione dobbiamo andare a fare prima i due ferri sono i ferri di base la maglia di vivagno noi la spostiamo senza lavorare e dopo andiamo lavorare due maglie a rovescio e quattro maglie a diritto 1 2 3 e 4 questo è il nostro primo motivo la base del primo motivo sono sei e così dobbiamo andare alternare per tutto il ferro 2 a rovescio e 4 a diritto ultime due maglie li andiamo lavorare a rovescio e sono le male di simmetria e male di vivagno noi andiamo lavorare a diritto giriamo il nostro ferro e ora secondo ferro noi dobbiamo andare a lavorare mantenendo il motivo cioè così come si presentano le maglie andiamo fare le nostre due maglie a diritto perché si presentano a diritto successive maglie che si presentano a rovescio le andiamo lavorare a rovescio e poi di nuovo l'inizio del motivo 2 a diritto 4 a rovescio e questo è il nostro ferro di ritorno secondo ed ecco qui abbiamo messo la nostra base ora partiamo proprio con la lavorazione e creazione del nostro motivo è semplicissimo bisogna solo un attimo capire il meccanismo guardate noi ora la nostra maglia di vivagno noi la facciamo passare senza lavorare le mali che si presentano a rovescio vanno sempre lavorate a rovescio normale quando arriviamo alle nostre quattro maglie lavorate a diritto dobbiamo andare con il nostro ferro di destra entrare in mezzo in mezzo a quattro maglie quindi due rimangono a sinistra due a destra entriamo dentro ricaviamo una maglia lunga quindi tiriamo un po il filo facciamo un gettato che anche quello lo regoliamo che sia lungo come se fosse un'altra maglia rientriamo nuovamente in questa asola e andiamo a ricavare una seconda maglia e in totale ora sono tre due maglie e un gettato ora dobbiamo andare entrare nell'asola di quattro maglie dritte quindi tutte quattro maglie e ricavarne un'unica maglia lavorata a diritto avete visto è semplicissimo ecco questo il nostro primo motivo poi la stessa cosa dobbiamo andare ripetere per altri blocchi vediamo anche questo insieme prime due maglie a rovescio normale quando arriviamo alle nostre quattro maglie lavorata a diritto andiamo con il nostro ferro di destra entrare in mezzo in mezzo di queste quattro maglie e guardate entriamo in mezzo e andiamo lavorare una maglia normale a diritto però tirando un po di più filo che sia lunga un gettato sempre regoliamo dalla stessa misura un'altra maglia e ora torniamo entriamo nell'aso di tutte quattro maglie lavorate a diritto e ne ricaviamo un'unica maglia lavorata a diritto ed ecco che abbiamo fatto anche il secondo motivo la stessa cosa si fa anche con il terzo due maglie a rovescio entriamo in mezzo a quattro maglie quindi due rimangono all'inizio e due alla fine ricaviamo una maglia lavorata a diritto lunga un gettato lungo la seconda maglia lavorata a diritto lunga e ora andiamo unire insieme le quattro maglie lavorata a diritto che si presentano del nostro motivo e da quattro ne ricaviamo un'unica maglia noi facendo così e poi andiamo concludere con le maglie a rovescio praticamente noi abbiamo fatto il aumento da entrando in mezzo abbiamo ricavato tre poi abbiamo fatto una diminuzione e il numero delle maglie è rimasto invariante perché da quattro maglie abbiamo ricavato quattro maglie lunghe con la lavorazione diverse che ci ha permesso appunto creare questo motivo però di ritorno noi dobbiamo spostare maglia di divagno le maglie che si presentano a diritto vanno lavorate a diritto e ora partiamo lavorando a rovescio le maglie che abbiamo creato le maglie lunghe subito dopo le maglie che si presentano a diritto le andiamo lavorare a diritto le maglie lunghe le andiamo a lavorare a rovescio normale e poi in mezzo ci sono le maglie dritte che vanno lavorate a diritto questo ci permette di nuovo rimettere la base del motivo noi sempre manteniamo due a quattro ed ecco qui così si presenta appunto inizia già a prendere bene la forma il nostro motivo ora noi il ferro di andata dobbiamo andare a fare nello stesso identico modo come abbiamo fatto il ferro numero 3 andiamo quindi la maglia di divagno la spostiamo le maglie a rovescio li lavoriamo a rovescio normale e quattro maglie a diritto li andiamo lavorare nello stesso modo entriamo in mezzo ricaviamo una maglia lunga il gettato seconda maglia lunga e ora andiamo unire insieme a quattro male e da quattro ne ricaviamo un'unica maglia ecco guardate e così continuiamo per tutto il nostro ferro eccoci qui ora il ferro di ritorno invece lo andiamo lavorare mantenendo il motivo lavorando le maglie così come si presentano quindi due maglie a diritto e quattro maglie a rovescio ed ecco qui così si presenta il nostro motivo dopo che abbiamo ripetuto per due volte la nostra lavorazione quindi ora noi dobbiamo semplicemente andare portare avanti questa lavorazione quindi questa copia di due ferri ferro di andata in cui andiamo a creare le maglie lunghe e ferro di ritorno in cui andiamo semplicemente mantenendo il motivo per tutta la lunghezza che desideriamo in base al progetto che stiamo realizzando noi qui abbiamo lavorato per alcuni ferri appunto il nostro motivo per farvi vedere come si presenta bene indifferentemente con che filato state utilizzando sia più grosso più sottile è sempre un bellissimo effetto facilmente applicabile per vostri progetti speriamo che il video vi è piaciuto grazie che siete rimasti con noi al prossimo video tutorial grazie a tutti grazie a tutti